È importante sottolineare come si era parlato nella partita di Parma della reazione forte che c'era stata è importante sottolineare oggi la compattezza e la tenacia che abbiamo avuto per portare a casa il risultato perché veramente negli ultimi minuti ci hanno un po' schiacciati nella nostra area e siamo stati bravi a non mollare, a tenere su tutti i palloni e poi a portare a casa i tre punti. A proposito di non mollare io volevo farti complimenti personali per quanto riguarda quello che stai facendo adesso perché tu davvero sei uno che non ha mai mollato, quest'anno per te si parlava, lo possiamo dire, di una possibile cessione sei rimasto qui, stai giocando e dunque sei proprio l'emblema di chi non molla mai. Sì, quest'estate si è parlato tanto, io ho comunque sempre pensato solo al campo e a lavorare bene il mister penso che abbia apprezzato questo per decidere di schierarmi in campo in queste partite sono molto contento di questo perché veramente non ho mollato, ho continuato a lavorare nonostante tutte le voci che c'erano intorno però questo era un obiettivo importante per me, aver giocato queste partite è molto importante. Ha detto Berami che quest'anno, in questa partita rispetto per esempio al passato non si è preso il gol che prima si prendeva spesso e che vanificava a volte anche delle buone prestazioni si ha la sensazione, non so se sei d'accordo anche tu, che davvero si sia arrivati al momento di una possibile svolta cioè che la squadra che voi riusciate a mettere alle spalle finalmente gli spettri e le paure che hanno condizionato il passato e forse hanno condizionato questa squadra anche nella partita contro il Benevento questa sera invece si è lottato, con carattere si è portato a casa un successo che può diventare determinante su questa strada Sì, penso che sia importante non pensare al passato, quello che è successo nella scorsa stagione come sarà importante già dalla settimana prossima non pensare più a questa partita nonostante come ho detto, siano stati tre punti molto importanti per noi però già da domani mattina bisogna dimenticarcela lavorare sugli aspetti negativi che ci sono stati e confermare quelli positivi che come abbiamo detto sono stati quelli di andare in vantaggio e di saper tenere il risultato Ma quanto martella Velasquez sul fatto che bisogna giocare il pallone fin da quando ce l'hai tu tra le mani o tra i piedi? Più volte vediamo che ti applaude quando fai la giocata giusta come la vuole lui a volte si arrabbia quando magari lanci lungo è davvero molto determinato in questo vuole che si partecipi al gioco tutti dal portiere in su Sì, il mister ha portato le sue idee che non è solo questa ma il suo proprio modo di vedere il calcio e noi ci proviamo e stiamo mettendo tutto per poi portare in campo quello che proviamo durante gli allenamenti ovviamente l'allenatore batte molto sui suoi punti principali diciamo di idee di gioco e noi dobbiamo essere bravi a trasmetterle in campo perché ci possono aiutare a vincere le partite